Musica 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 Nella pallamano italiana il momento dello Scudetto Inizia la serie di finale, l'ultimo gradino da salire Ma anche il più faticoso E per chi come noi guarda da fuori Certamente il più emozionante in assoluto Dalla costa, dall'altro lato Che buca Una porta difesa da Marciana Masson Musica Musica Siamo adesso ancora sotto la traversa Con la difesa di Salerno Lo verso sinistra Lo leggo dalla costa La mano nell'angolo Ha in braccio caldo Virano con le tano Che buca Sul primo palo La gol del 13 a 9 E dall'altra parte Però Salerno deve registrare Qua cosina di difesa Perché Curpaziova riesce ad incurearsi nello spazio Musica 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 Marjanella Tarbuc Onnipresente Nella manovra d'attacco Musica 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 Ecco le sue finte Nuovamente Corpaziova Che stacca sul Piede destro Musica 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 29 a 23 La AC Lifestyle Erice Batte La Jovi Salerno fa sua gara 1, il finale scudetto alla Panacantella.